A, E, I, O, U, passo ripasso A, E, I, O, U Ma Zapping lo guarda lei? Eh, lo guardo ogni tanto Come le sembrano queste donne di Zapping? Ultime cose, coraggiavole farle sempre migliori Le donne che ha visto su Zapping Prima diceva, io Zapping guardo sempre le donne Beh, io le guardavo Adesso le guardo lo stesso Mi fa un buon Zapping a tutti? Eh? Buon Zapping a tutti Buon Zapping a tutti, complimenti per l'impegno Anch'io guardo sempre Zapping Ok? Perché? Perché è bellissimo, è fantastico Perché ci sei tu Perché? E ci siamo anche noi Perché? Basta, perché il vino è buono, assaggiatelo Sì, ma Zapping? Zapping è Zapping È il vostro programma Chi? Il vostro programma No, come? Lei guarda sempre Zapping? Veru è? Rassami Ma è vero o no? Ma mi dica la verità Lo guarda o non lo guarda? Zapping lo guarda sì o no? Zapping Cosa è questo cazzo di Zapping? Eh, ma mi fa mettere il bip poi Ben trovati, ci siamo trasferiti a Ossi Perché, insomma, c'è l'apertura delle strade nuove Intanto vogliamo, no, rifai tutto Che io le prime sono sempre un po' infattanato Ben trovati, eccoci qui Siamo a Ossi Abbiamo tanto parlato di rifai ancora Zapping Guardate Teleregione Perché su Teleregione c'è Zapping Zapping C'è anche il vice sindaco di Ossi qua, eh? Zapping Nando Canu Zapping 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 Per l'uomo che non deve chiedere mai Mettetevi un profumo Prendete un telecomando Abbassate le armi E Zapping Il programma che anche George Carpenter Avrà paura di vedere Mettimi in onda che te lo dico io Mettimi in onda che te lo dico io Qua è la cosa più buona che trovi In tutto il mondo della Sardegna Bravo Ma questo lo devi spedire anche in Africa, cazzo O te chiedisco Ho detto ma Sì ma se tu scusa parli con me E guarda lui Io mi spavento Vabbè Non ho fissato fissi Se parli adesso Trusà Trusà Ma dimmi tu che uno non puoi innaffiare tranquillo E vabbè che fai le interviste Vabbè che A meno che sei sceglie non farle vedere Sono amante di fiori Amante delle piante Cosa? Zapping E cos'hai il tuo zapping? Ah fuori onda Zapping Ma andate a zappare Andate Dovete andare a zappare Vabbè io faccio questo con i fiori Poi andate a zapping Zappare Hai capito? Ancora ne hai Perché ti denuncio forte io a te Per la privaci Per la privaci Per la privaci Ti denuncio forte Cosa è zapping Solo che ho zapping E allora E questo è il nuovo programma Vi siete inventati Aspetta Fantasia Con cui state lavorando Ultimamente A A E I O U Passo ripasso A E O U Esa va a raias ayer